DEFENSE DIGITO 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 Guarda, questa storia ha viaggiato parecchio. E qualcuno ci avrà magari ricamato sopra negli svariati passaggi Tu cerca di leggere fra le righe Lui non sarà stato il messicano più alto della storia D'accordo Ma lei era tanto pericolosa quanto bella C'è anche una donna Oh certo, c'è una donna Quando lui finiva le munizioni arrivava lei La più strabiliante esterminatrice di uomini che tu possa mai immaginare E fu così che cominciarono i guai